Il 16 novembre si ricorda una data simbolicamente molto significativa e veramente tragica, cioè la conclusione della costruzione di un muro che recingeva il ghetto di Varsavia. Siamo nel 1940, il ghetto è stato costituito poco più di un mese prima, i lavori del muro erano iniziati già nel mese di agosto, sembra nel 1940, dopo che i nazisti avevano invaso la Polonia nel settembre del 1939. Nel ghetto confluirono tutti gli ebrei della città, si arrivò a una popolazione di circa 500.000 persone. Tutte queste persone nel giro di qualche anno morirono o per gli stenti perché il cibo era veramente molto scarso, oppure furono deportati nel campo di Stermiu di Treblinka, oppure addirittura morirono poi nella rivolta che ci fu nel 1943, all'interno del ghetto e il ghetto poi a quel punto venne distrutto. È un simbolo tragico questa costruzione del muro perché bisogna ricordare che le persone che cercavano di avvicinarsi, anche semplicemente al muro, venivano colpite dai fucili o dai mitragliatori. Questo era l'ordine che il governatore aveva dato. Questa data simbolica è molto importante da ricordare per non dimenticare le atrocità che sono state commesse dal nazismo, ma non solo, perché tutte queste cose non debbano ripetersi. Grazie.